dimmi roba bianca chi è cattà? non mi roba bianca ma ci sollevano cosa perchè ti fa subitare e ti ha metto un po' la tarca? troppo bene intervista distrutta aperta ma come ti senti? c'è l'ossine come ti senti? come è stessa? di c'è l'italia? c'è l'italia? ti fai un scema ah ci vediamo che non c'è un'altra è brutta come... ora ti scio ahahah se non ti senti un po' la tua le luci le luci le luci le luci le luci se non andiamo a trovare la casa ahah a mia testa un è... è no andro che ha oggi poco la arca perchè? qui è andato? non ti senti la scala? no perchè... a basso il trezzo è l'arca di sopra ahah e perchè? che ho dalla scala? rire che ho la cosa? non ti senti la scala mi senti la scala? mi senti la scala? mi senti la scala? mi senti la scala? mi senti la scala mi senti la scala da mia mi senti la scala che ho? che ho? comunque è curto ilvere perciò i sceppi è per il governo ora dici dici che farò un imparzio scusca su da l'afo vici italiano io dici l'aiuto come un momento Sì, non ci fai una fotografia, io ci togliamo. Quello, che si affronta? Cosa è? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ma... hai gannato la residenza? Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì.